benvenuti a quando c'è la salute l'appuntamento quotidiano con il vostro benessere attraverso i consigli dei nostri esperti noi ci prendiamo cura di voi lo sapevate che la caffeina oltrepassa la placenta e questa la rivelazione di un ultimo studio americano attraverso la placenta il feto ha nutrimento e ossigeno ma può anche avere appunto degli effetti negativi da alcuni farmaci che contengono delle sostanze che oltrepassano la placenta e tra questi ci può essere anche la caffeina infatti gli studiosi hanno analizzato non soltanto la caffeina contenuta in bevande come il caffè o altre bevande con questo contenuto ma anche i farmaci purtroppo non è ancora chiaro quanta caffeina riesca ad oltrepassare la placenta ma c'è di certo che la oltrepassa e che gli enzimi per processarla il feto purtroppo non li ha e quindi potrebbero nuocere alla sua salute adesso invece parliamo di certificazioni di qualità vi siete mai domandati che cos'è a che cosa serve per i nostri cibi se lo avete fatto allora ascoltate bene i consigli del primo esperto di oggi accanto a me c'è il dottor lorenzo traversetti biologo nutrizionista benvenuto oggi parliamo di certificazione di qualità innanzitutto chiariamo che cos'è quando diciamo certificazione di qualità che cosa vogliamo intendere intendiamo un attestato che conferma tutta la filiera produttiva che c'è dietro l'ottenimento di quel prodotto dall'origine alla messa sul mercato e quindi è una garanzia di qualità e di presenza di tutti i nutrienti di cui quel determinato alimento si vanta e ha la qualità tutti i prodotti che noi acquistiamo ce l'hanno dovrebbero averla com'è che funziona allora nello specifico di alcuni prodotti si vede i salumi presentano questa certificazione solamente se rispettano alcuni protocolli di produzione e che sono poi quelli che garantiscono l'ottenimento di un marchio come il marchio di indicazione geografica protetta un esempio su tutti la besaula della valtellina oppure il marchio di origine protetta anche lì un esempio su tutti sempre parlando di salumi il prosciutto san daniele non significa avere solamente un marchio significa avere alle spalle un'intera filiera di produzione dove tutti i passaggi sono controllati certificati anche a partire dall'alimento che viene dato agli animali un animale che viene alimentato in modo più sano è un animale che produce una carne più salutare una carne che necessita di minori additivi di conseguenza una carne più salubre è una carne che una carne che garantisce il supporto di tutti i nutrienti che noi ci aspettiamo di assumere quando consumiamo un prodotto come per l'appunto un prosciutto un presaula un salume in generale quindi i prodotti che noi troviamo sul mercato con questa certificazione hanno praticamente passato tra virgolette diciamo degli esami rispetto a tutte le caratteristiche che lei ci indicava ma i prodotti che invece non hanno questa certificazione li troviamo comunque al supermercato nei negozi assolutamente sì la certificazione è un marchio di qualità e quindi in quanto tale ovviamente sottende anche magari a un prezzo leggermente più alto ma se vogliamo mangiare bene dobbiamo mangiare un qualche cosa di cui conosciamo la scheda anagrafica con quel marchio di garanzia noi conosciamo e sappiamo che c'è qualcuno che ha controllato l'anagrafica di quel prodotto e che certifica per noi che quel prodotto sia salutare appunto salutare volevo proprio fare questa domanda per concludere tutto questo come si traduce per la nostra salute si traduce nel fatto che noi consumiamo un prodotto che ci fornisce tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno meno sale più aminoacidi meno grassi saturi e più grassi insaturi e monoinsaturi quindi nutrienti buoni in quantità maggiore nutrienti cattivi passami questo termine in minore quantità quindi per concludere direi leggere prima di mangiare assolutamente sì grazie noi andiamo avanti e in compagnia della nostra inviata miriam ugualandi ci spostiamo direttamente negli studi del prossimo esperto vediamo vi è mai capitato di comprare un apparecchio acustico e di non indossarlo vi è capitato di sentirvi in un certo senso abbandonati vediamo insieme al dottor agostino sperati quanto è importante l'assistenza tecnica è importantissima udisense da questo punto di vista lavora molto siamo molto molto attenti a tenere sotto controllo tutto ciò che avviene dal momento dell'applicazione protesica al seguire la prima fase è importantissima le persone che si avvicinano all'apparecchio acustico non hanno esperienza quindi hanno bisogno di rientrare in un mondo di suoni e quindi hanno bisogno delle informazioni ma hanno bisogno di essere seguiti udisense ha messo a punto addirittura una card che obbliga fra virgolette a venire costantemente questo fa sì che addirittura si riceva garanzia in più su quello che è la funzionalità dell'apparecchio esistono ricerche recentissime proprio sullo stato dell'abbandono dell'apparecchio siamo assolutamente attenti non vogliamo che questo esista ecco perché lavoriamo molto sulla qualità professionale dei nostri collaboratori come si tengono aggiornati i vostri audioprotesisti semplicemente facendo formazione costantemente noi mensilmente facciamo dei corsi tecnici io stesso indico corsi la mia esperienza quarantennale la trasferisco a tutto il nostro personale la mia docenza per anni all'università di roma fa sì che possa trasferire questi ormai dati importanti per la qualità professionale non solo ma anche le aziende con le quali noi abbiamo riferimento cioè dove acquistiamo gli apparecchi acustici ci forniscono gli apparecchi acustici nello stesso momento ci danno anche la formazione su quelle che sono le tecnologie perché è vero che abbiamo delle tecnologie immense ma sono anche delle tecnologie che possono essere armi a doppio taglio se non sappiamo utilizzarle facciamo magari un effetto negativo e diamo un effetto negativo su quello che può essere il risultato poi protesico eccoci di nuovo in studio pronti per parlare di sicurezza alimentare vi è mai capitato di provare un senso di insicurezza quando siete al supermercato dovete acquistare qualche prodotto se sì allora è arrivato il momento di ascoltare bene che cosa ha da dirci il secondo ospite di oggi vediamo accanto a me in studio c'è la dottoressa meri petrillo criminologa oggi con lei vogliamo parlare di sicurezza alimentare dal punto di vista diciamo psicologico per così dire nel senso che quando siamo al supermercato magari leggiamo costantemente le etichette e a volte non sappiamo se acquistare un prodotto piuttosto che un altro perché ci sentiamo insicuri rispetto a ciò che abbiamo davanti che cosa accade nella nostra mente di fronte a una varietà di prodotti che ci possono sembrare più o meno buoni sì dunque innanzitutto io mi riallaccio a questo discorso della sicurezza alimentare perché attraverso un'associazione che si chiama movimento degli elettori dove io sono presidente della commissione sicurezza e legalità abbiamo ricevuto da parte delle persone tante richieste di sapere se c'è una vera e propria disciplina che dà in qualche modo delle indicazioni ben precise quando si comprano i prodotti effettivamente queste regole ci sono il problema è che non vengono sempre applicate e le persone a volte capitano in alcuni esercizi commerciali dove ci sono per lo più parliamo di frutta e di ortaggi dove praticamente c'è solo il prezzo e non si sa da dove provengono questi prodotti siccome oggi il consumatore più consapevole si sente quindi insicuro nel comprare quel determinato prodotto sapendo che sì è vero lo paga magari un po' di meno però non sa cosa sta mangiando allora che cosa possiamo consigliare i nostri telespettatori quando realmente si trovano davanti al banco magari appunto della della frutta di ortaggi della verdura e provano questo senso di insicurezza che lei ha descritto devono assolutamente chiedere a chi vende da dove provengono i prodotti senza avere paura di fare nessuna brutta figura perché è la legge che tra l'altro in teoria obbliga i commercianti a esporre le etichette di provenienza dei prodotti che vendono rispetto invece alle segnalazioni di cui parlava prima quali sono i consigli che avete dato diciamo a queste persone che vi hanno scritto abbiamo detto a queste persone che innanzitutto le aiuteremo a portare avanti questa loro istanza e quindi ci facciamo anche promotori attraverso l'associazione di queste richieste da parte di tutti i cittadini e poi cercheremo praticamente di andare anche a parlare con i commercianti e dire di esporre secondo legge la provenienza dei prodotti questo è molto importante da non trascurare. Grazie per tutti i suoi consigli il nostro tempo insieme è scaduto ma vi aspetto tutti i giorni su canale 21 al mattino alle 7.45 e alle 11.30 di pomeriggio alle 18.30 e alle 19.30 ovviamente scriveteci poneteci le vostre domande noi vi risponderemo alla mail redazioneroma.it e seguiteci anche sul nostro canale youtube e sulla nostra pagina facebook grazie e arrivederci Grazie a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori